Devi sbrigare una pratica con la tua auto e non vuoi perdere tempo. Studio Carlea, da oltre 30 anni al servizio dell'automobilista. E di due morti e un ferito, il bilancio dell'agguato di Camorra avvenuto nel pomeriggio a Napoli. Il duplice omicidio si è consumato in Vico delle Nucelle a Mater Dei. I due uomini uccisi sono Ciro Marfè, 25 anni, e Salvatore Esposito, 32. Il terzo, ferito ma non in pericolo di vita, è Pasquale Amodio, 43enne. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini. Le vittime viaggiavano in sella ad uno scooter quando i killer sono entrati in azione. Il primo a cadere sotto i colpi è stato Marfè, che è morto immediatamente in strada. La seconda vittima invece è deceduta poco dopo il ricovero presso l'ospedale Cardarelli. Non è ancora chiaro se il ferito e la seconda vittima sono stati colpiti per errore o se in qualche modo erano legati alla prima vittima. Sul caso indagano i carabinieri del nucleo investigativo. Pare che lo scooter sul quale viaggiavano i due assassinati fosse intestato a soggetti legati all'ex clan Giuliano di Forcella, come riporta il mattino. Si riaccende dunque la faida per la conquista delle piazze di spaccio tra Napoli e provincia. Sono mesi ormai che i clan rivali dei vari quartieri, dalla Sanità a Forcella a Miano, si contendono gli affari illeciti a furia di stese e omicidi per mostrare la loro forza sul territorio. Sul posto questo pomeriggio gli investigatori che stanno ricostruendo l'esatta dinamica del duplice omicidio.